Grazie. Perfetto. Sì. 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 Ragazzi, domantina si fa sempre vento. Praticamente vittoria alla prima hit, al secondo posto. Invece Gallo alla terza hit, al primo posto. Attualmente il vento è borderline. Stiamo aspettando un po' di calma di vento. Speriamo che Gallo sia ancora. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.